Andiamo così, andiamo a far cucinare, questo si chiama per la sinistra, perché è più forte, quindi finisce con il genere di cucinare, ma lo sentiamo bene, quindi il cucinare è tutto questo. Allora, la posizione del braccio, questo qui, questo si deve ricassare sotto la scena, non va alla scena della spalla, ok? Allora, la posizione del braccio, con il braccio, con il fianco, potremmo stare a venire sotto la scena, e io mi spalmiamo. Non c'è niente bisogno di girare troppo, alcuni va in maniera esagerata, cioè sopra tutto qui. Non c'è niente bisogno di girare, non è il tempo di fare tutto questo movimento, basta portare il contatto, quando arrivo qui, ho il contatto, basta piegare le gambe, anche se mi chiudo qui in basso, c'è un quadro, guardate. Io sono chiudo in basso, qui, non bisogna fare una rotazione da girare, ma anche fare così. Intanto non si fa la schiena, questa è la rotazione. E poi l'altro c'è un più immediato, si incerco il contatto, piego, e vado in basso. No, giro dichiaramente, ma non troppo. Ok? Va bene.